Questo spettacolo è uno spettacolo un po' particolare perché non è la solita commedia ma è uno spettacolo anche con temi impegnati è uno spettacolo profondo, è uno spettacolo innanzitutto al femminile ma al femminile è anche vagamente femminista diciamo così soprattutto per il personaggio di Comunarda Allora presentateci un attimo questo spettacolo nella speranza di poterlo rivedere la prossima stagione magari Sì sì, lo rivedremo anche nella prossima stagione, intanto vediamolo ora è uno spettacolo che racconta una parte di storia, di vita della guerra 15-18 quando gli uomini sono andati tutti al fronte e le donne hanno dovuto sostituirli sostituirli nel lavoro, sostituirli con varie incombenze in particolare nella commedia c'è questo personaggio mio che è Margherita la moglie di un ingegnere, proprietario di una fabbrica la quale non sa proprio niente di questa fabbrica pensa solo a cappellini, vestiti, partite di bridge e piano piano deve prendere in mano il comando della fabbrica aiutata da una segretaria che invece già lavora da parecchio tempo e avrà una bella trasformazione perché piano piano con la complicità anche guadagnata perché prima naturalmente discutono, fanno, sbagliano, c'è di tutto insomma si creerà una bella complicità fra le operaie, la padrona, la segretaria e le donne quando sono unite lo sono sul serio e fanno bene per cui è tutta una situazione vera che noi naturalmente riassumiamo a commedia perché è una commedia quindi anche si sorride, si ride però parlando di cose vere purtroppo questa evoluzione diciamo un femminile avrà un suo fermo subito dopo con il fascismo però bene che parlino anche le altre Ecco Mirella ha il ruolo di questa segretaria che è costretta a stare nei ranghi ma con un pizzico anche di voglia di ribellione visto che è anche vessata dalle continue richieste della madre ed è forse il personaggio diciamo più equilibrato fra tutti quelli presenti in scena Beh sì, soprattutto lei lavora già da tempo quindi poi conosce appunto l'ambiente in cui si muoveranno tutte e tutte arrivano a lavorare anche le operaie come dire con la sorpresa di quello che devono fare tranne forse appunto Comunarda perché già sapeva quale sarebbe stato il suo lavoro il mio personaggio chiaramente mi piace molto sì forse è la più equilibrata ma fino a un certo punto nel senso che ha questo rapporto particolare con la mamma anziana che la sobbilla ma fino a un certo punto e poi non svegliamo altre cose di questo personaggio che verrà riconosciuta come uno spirito di iniziativa eccetera eccetera dal nuovo ingegnere, dalla signora Gallo e quindi a un certo punto dirà ci voleva una guerra perché qualcuno riconoscesse le mie qualità che è una cosa molto amara ma licenziateci tutte qua voglio vedere come l'hanno andata avanti la fabbrica dove li trovate gli operai? dove li troviamo gli operai? potremo rimpiazzarle con i prigionieri austriaci al lavoro coatto avete sentito? sarete tutte rimpiazzate con prigionieri austriaci coatti Paola Tiziana è il personaggio diciamo di rottura è quello che innesca tutto quanto il ribaltamento e le vere rivoluzioni che poi avvengono all'interno di questa piccola azienda sono socialista, sono una seguace di Anna Kulischoff conosco le fabbriche perché ho già lavorato in fabbrica in Francia e praticamente mi faccio portavoce di tutte le nuove istanze di indipendenza e di emancipazione che le donne in quel momento cominciano a conoscere complice appunto delle altre operaie ma alla fine anche la padrona ascolta e quindi diventiamo un po' tutte quante perché poi il femminismo la voglia di emancipazione è trasversale fra donne quando si combatte per i diritti delle donne non ci si chiede perché si vota sono diritti delle donne e quindi le donne devono solo stare insieme sinceramente mentre invece voi due che siete le più giovani faticate un po' ad entrare in questi meccanismi di rivoluzione e soprattutto di, come dire, di girl power ecco, diciamo così di complicità femminile tu innanzitutto sei una, come dire una ragazza un po' svampita diciamo la più estroversa del gruppo diciamo così sì, sì, beh il mio personaggio, Giacomina è una ragazza del popolo molto frivola a cui interessano soprattutto anche lei i cappellini, le mode e anche gli uomini diciamo è molto libera anche per l'epoca e quindi entra in fabbrica anche un po' senza capire bene che cosa sta succedendo e però l'incontro con Comunarda la porterà a una consapevolezza maggiore quindi riuscirà a, diciamo, avere una profondità maggiore anche per quanto riguardano i diritti delle donne per poi, in realtà, appunto diciamo avere un'evoluzione un po' un po' che la riporta nei ranghi perché tornerà a essere, come tutte diciamo dipendente dalla figura maschile anche se ha avuto questa bolla di indipendenza riuscendo a guadagnare da sola quello che quello che poteva invece all'esatto opposto abbiamo la cristianissima per citare Renato Zero mio padre è un coniglio un figlio per ogni sbadiglio praticamente un figlio ogni anno ogni anno quasi, praticamente, sì parto con cinque figli poi non diciamo a quanto arrivo perché è una cosa carina venirlo a scoprire e sì quindi dedita la famiglia ai figli alla religione alla fede così mi ritrovo catapultata in questa in questa esperienza e devo dire che poi mi ci trovo anche molto bene nel senso che inizio a divertirmi molto inizio a capire che è importante avere una dignità e una un'unione femminile un pensiero che può portarti oltre e chiaramente anche io poi ritornerò un po' incastrata nel meccanismo diciamo della maternità voluta e dovuta in qualche modo però insomma un momento di rivoluzione interiore indubbiamente il mio personaggio ce l'ha Giorgio mio caro e certo che la prego la madonnina assunta io tutte le sere recito il rosario anche voi due dovreste farlo sapete così la madonnina vi ascolta ma io non ci penso proprio mica ci credo io alle vostre madonne ma santissima maria lo sai che cosa dice don giuseppe che gli atei stanno solo un gradino sotto i santi perché pensano sempre a dio anche se pensano che non esiste ma io non ci penso mai se dio c'è o non c'è a me non mi cambia a distanza di un secolo dagli eventi trattati in questo spettacolo quanto poi effettivamente è cambiato e soprattutto quanto manca ancora per raggiungere questa parità visto che tuttora molto spesso le donne non hanno lo stesso salario degli uomini quindi è importante anche questo spettacolo nonostante sia ambientato un secolo fa è comunque lo spettacolo attuale a tutti gli effetti sì ma infatti il pubblico lo sottolinea molto perché ci sono delle battute in cui capisce quanto poco poi in realtà si è andato avanti o comunque però il seme importante è stato gettato allora purtroppo c'è stato tutto il periodo del fascismo poi anche in seguito insomma per cui non è da molto che si è ricominciato diciamo a lottare per certe cose però naturalmente le donne si sono molto emancipate e quindi possono con più velocità andare avanti però a volte invece gli uomini tendono a tenerle soffocate in questa bolla ma è stato molto importante quel periodo lì è stato basilare perché passare da un 800 con trine e merletti oppure con miseria e povertà alle prime lavoratrici quindi andava anche descritto devo dire che la gradevolezza di questa commedia comunque anche è che dà un piccolo messaggio se vogliamo nel senso fa almeno capire come è avvenuta la storia però lo fa con leggerezza lo fa con il sorriso anche il momento più serio e questo credo che arrivi anche di più perché ecco ridono quando diciamo quando lei dice almeno non per ora non chiediamo la parità però credo che chi la recepisce e ride poi pensa effettivamente non è avvenuto e quindi sono pensieri che entrano dentro meglio in qualche modo che non la lezione dovete fare così o il femminismo quello più per cui noi siamo contenti di portare col sorriso una cosa che fa anche capire l'evoluzione delle donne però da parte degli uomini c'è sempre un po' questa vogliamo chiamare ritrosia per non dire invidia cioè del sapere che le donne sono altrettanto brave se non addirittura di più un maschio anche un po' maschilista come reagisce ad esempio ad uno spettacolo del genere il maschio mi auguro che il maschio alfa ringraziando Dio ne vedo sempre di meno sono spaventata insomma ce ne sono sempre di meno anche perché è evidente che le donne sarebbero in grado di ricoprire un sacco di posti di comando che ancora vengono ricoperti dagli uomini e questo cambierebbe molto perché le donne dove ci sono le donne non si parla di guerra per esempio dove ci sono le donne c'è maggiore pace sociale c'è maggiore solidarietà quindi diciamo che le donne dove ci sono più donne è un vantaggio per tutti anche per gli uomini solo che fino adesso la storia l'avete scritta voi uomini ed ecco proprio a proposito di questo visto che siamo in queste ore in questi giorni sta varando il nuovo governo quando è che anche l'Italia sarà pronta per avere magari un presidente del consiglio donna siamo pronti per avere il presidente del consiglio esatto questa domanda non lo so biancanevi settenani cioè stiamo parlando veramente che ti devo dire io spero presto perché ce lo auguriamo di avere dei riconoscimenti ma non ho una risposta sono anzi sono così a bocca aperta come fa Liliana durante quasi tutto lo spettacolo di fronte a quello che succede perché mi state stupendo perfetto allora facciamo un invito finale a venire al Teatro Manzoni a vedervi noi siamo qui in scena fino al 17 di giugno al Teatro Manzoni di Roma abbiamo tante repliche pomeridiane tutte le sere tranne il lunedì vi aspettiamo perché raccontiamo la nostra storia una storia importante aspettiamo le donne ma aspettiamo anche gli uomini assolutamente sì soprattutto loro aspettiamo così vediamo se riusciamo a mettere un germe che può portare i suoi frutti sì sì ma li aspettiamo anche con simpatia e con amore non li vogliamo mangiare siamo siamo abbastanza noi siamo molto intelligenti sappiamo i nostri come ottenere le cose grazie a voi a presto vi aspettiamo grazie a tutti